Diritto al lavoro, precarietà, disperazione e infine protesta. Scenario globale che conosce per ogni realtà risvolti particolari. Questa volta sono stati lavoratori del Teatro del Giglio a scendere in piazza. Motivazione, la mancanza del rinnovo contrattuale. I dipendenti stanchi dei tagli e dell'attuale gestione della sfera lavorativa hanno indetto uno sciopero scattato dopo il nulla di fatto dell'ultimo incontro con la dirigenza basato proprio su questa questione. Le trattative sono andate avanti fino alla scorsa settimana ma i lavoratori aspettavano risposte chiare dalla dirigenza sulla ripresa della concertazione per un nuovo accordo aziendale. Risposte che, si legge in una nota dei sindacati, non sono mai arrivate ma che hanno prodotto un ulteriore rinvio. Il presidio è iniziato alle 9 e si è protratto per l'intera giornata. Inoltre si riproporrà per il turno serale di venerdì 1 febbraio. A rischio dunque lo spettacolo Miseria e nobiltà di Edoardo Scarpetta con Lello Arena, previsto in scena al Giglio dal primo fino a domenica 3 febbraio.